In bici su via Prenestina, una nuova ciclabile che andrà da Porta Maggiore a Viale Palmiro Togliatti. È il progetto che prevede la realizzazione di una bike lane di circa 6 km che unirà il centro della città alla periferia. I primi cantieri per la realizzazione della pista saranno visibili a partire dal prossimo anno. Addio strade intitolate a firmatari del Manifesto della Razza. Si tratta di via Arturo Donaggio e via Edoardo Zavattari. Sarà avviato un percorso partecipativo per scegliere due personalità che si opposero al documento a cui intitolare le vie. Il 23 settembre partirà la seconda edizione della Rome Alpha Marathon via Pacis. La corsa, nata per promuovere il dialogo interreligioso, si svolge su un percorso che collega luoghi di culto della capitale come Piazza San Pietro, Sinagoga, Grande Moschea, la Chiesa Valdese e quella ortodossa. L'evento è promosso da Roma Capitale, dal Pontificio Consiglio della Cultura ed è organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.